Buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali, come sempre in diretta, siamo alle 7.30 del mattino di oggi, mercoledì 13 aprile 2016. Cominciamo dal santo del giorno, oggi è San Martino I, è stato Papa, morì nel 655, il sole è sorto alle 6.27, tramonterà il 19.50, vediamo il tempo velocemente, oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, domani ancora cielo sereno con temperature invece in diminuzione ma solo nei valori minimi e venerdì 15 aprile lo stesso, tempo buono e tempo stabile lo avremo anche per tutto il resto della settimana. Allora, i giornali anche oggi puntano su quella notizia che riguarda gli sversamenti in mare della piattaforma, la piattaforma in particolare che è stata mostrata nel servizio in esclusiva a Piazza Pulita, in onda sulla 7 l'altra sera, dove tra l'altro c'era ospite anche il sindaco di Pesero Matteo Ricci. Adesso si vuol capire, si vuol sapere esattamente, lo ha fatto ieri subito con una lettera indirizzata al Ministero dell'Ambiente, il sindaco di Fano Massimo Seri, si vuol capire che cosa esce fuori da quel tubo che abbiamo visto ieri sera, vi abbiamo proposto ieri sera nel filmato, nella sintesi del servizio appunto in onda sulla 7 ed eccolo qua il tubo, questo fermo immagine riproposto dalla pagina di Fano del resto del Carlino, immagini shock, un frame di questo servizio, si vede il sub che è andato sotto ieri, l'altro giorno sotto la piattaforma Basil che sta a 25 km qua fuori dal largo di Fano e si vede lo sversamento, eccolo qui, vedete, questo eccetera. Ok, allora adesso si vuol capire che cos'è. Ricciatti, anche l'onorevole Ricciatti di Sel interroga il Ministro, Seri, il sindaco di Fano scrive e si domanda dove hanno fatto finora il bagno i nostri figli, e davvero, se andiamo a leggere i dati, quelli che sono stati citati in questo servizio, dati che fanno riflettere, dati che fanno riflettere. E allora, sotto c'è l'intervista però a Corrado Piccinetti che è responsabile del laboratorio di biologia Marina a Fano che dice la pesca ha tanti problemi ma non le trivelle. Quindi, come sta il mare Adriatico? Domanda Clappis del resto del Carlino. Come sta il mare Adriatico? E risponde Piccinetti. Direi che sta bene. Secondo i nostri dati, la risorsa ittica non se la passa male, semmai è la pesca ad essere in sofferenza. Sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, sversamenti fuori dati. Il sindaco Seri e l'onorevole Ricciatti, dopo il video esclusivo di Piazza Pulita, il programma documenta gli scarichi sotto una piattaforma Eni, e cita notizie preoccupanti. Ci dicano la composizione chimica. Lara Ricciatti ha subito rivolto un'interrogazione parlamentare che è stata depositata ieri mattina per chiedere che si verifichino immediatamente le rivelazioni dell'inchiesta Italian Offshore. Ho chiesto in particolare che vengano verificate che, anche attraverso i competenti uffici minerari o per gli idrocarburi e le georisorse, acquispette il ruolo ispettivo, eccetera, che cos'è l'effettivo scarico di acqua di produzione in mare e la loro composizione chimica, fornendo soprattutto chiarimenti sulla presenza di metalli pesanti, idrocarburi ed eventuale materiale radioattivo, così come è stato detto e citato nel servizio, nel documento che è stato trasmesso ieri. Passa l'emendamento, questa è l'altra notizia che troverete sulla pagina di Fano del Corriere, passa l'emendamento sulla trasparenza, la maggioranza divisa, verifiche più stringenti per Aset Holding. La pagina invece di Fano del messaggero, eccola qua, Fano non ascolta Pesaro, avanti su Chiaruccia, stiamo parlando dell'ospedale unico, non si vuole arretrare sulla scelta, ma il cortocircuito preoccupa. Il giochetto del muro contro muro rischia soltanto di far perdere tempo. Il gioco dei veti sul sito comincia a stancare la politica e soprattutto la maggioranza di centro-sinistra, del braccio di ferro tra le due amministrazioni. Ne approfitta chi vuole salvaguardare il Santa Croce. L'area di sosta per i camper che si trova in Viale Kennedy a Fano è un disastro, si punta sul turismo itinerante, ma la potenziale area di sosta è in completo abbandono. Ovuli di eroina nel corpo, sono stati condannati i due corrieri, due marocchini di 50 e 33 anni che sono stati difesi dall'avvocato Umberto Levi, sono stati condannati dal gruppo Mussoni rispettivamente a sei anni e quattro anni e otto mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. La prima pagina del resto del Carlino di Pesaro in evidenza gli otto alberghi chiusi e in degrado che deturpano, se così possiamo dire, l'ambiente circostante, quindi la città di Pesaro che ha una vocazione turistica forte e che cerca di far diventare questa città sempre più bella. dibattito tra chi vuole abbattere questi otto alberghi chiusi e in degrado e chi invece vuole trasformarli in appartamento. Il titolo è il rebus degli hotel, questa è la foto. Poi su Nuova Banca Marche, ieri la commissione presieduta da Carloni ha ascoltato il responsabile di Banca Italia, la proroga attesa a giorni, scrive. Poi in seguimento e manette dopo lo stalking, un terzetto picchia una coppia, aggredisce altri cinque ragazzi, poi arrivano i carabinieri. Una notizia che arriva da Pesaro e che riprendiamo dal Corriere Adriatico. Notte di follia, arrestati tre ragazzi, hanno seguito e speronato l'ex di uno di loro, poi se la sono presa con l'altra coppia picchiando il giovane. Sono accusati di lesioni e resistenza, per uno di loro anche il reato di stalking e per tutti l'obbligo di firma. Una notizia che avremmo dovuto darvi anche noi, però cercheremo di capire come mai dal Comando Compagnia Carabinieri di Pesaro non c'è arrivato nessun tipo di segnalazione. Sulla Fano Grosseto invece, torniamo sul Carlino, si va avanti. Pierantoni, l'arresto del funzionario Anas non influisce. Quindi cosa cambia nella vicenda Fano Grosseto dopo l'arresto del project manager di Anas Spani? Con la Dinnella, che è avvenuto arresto nei giorni scorsi, dice nulla cambia. Lo spiega Romina Pierantoni, che è la presidente dell'Unione Montana dell'Alto Metauro, che chiarisce subito i dubbi che potrebbero tornare ad addensarsi sulla E78. E cioè che quando succedono queste cose, questi arresti eccellenti, poi i progetti collegati più o meno a questi personaggi si blocchino per chissà quanto tempo. Invece, secondo la Pierantoni, pare appunto che questo sia scongiurato. Sul resto del Carlino è Aset, strappo tra il PD e il sindaco, i democratici e l'Uzzi votano con l'opposizione, nei seri finisce in minoranza, tensione in Consiglio Comunale, seduta sospesa un'ora, volano parole grosse, la Fondo Auspici, vicepresidente della Holding, dice hanno dimostrato chi comanda. Sotto, addio a Don Attilio, l'89enne che era rimasto bambino, si è spento il sacerdote della parrocchia di Cucurano. Oggi alle 15, la parrocchia di San Biagio, appunto lì nella frazione di Cucurano, ci sarà il funerale celebrato dal Vescovo di Fano, Armando Trasarti. L'altra pagina del resto del Carlino, dopo gli sbancati, il film fortunato in dialetto fanese, Secchiaroli, regista R.C., riprova e dice porto il San Costanzo Show al cinema. Si intitola Stregati dalla Bruna, il film in uscita il prossimo 31 ottobre. La pellicola è dedicata al compianto Peppe Nigra. Top Secret, invece, la trama di questo film. Qui vedete tutto il cast di questo film che è in uscita e che ancora deve essere girato, lo gireranno durante l'estate, tutto il cast che ieri ha presentato appunto questo film. Andiamo sull'altra pagina, Fano e Vale del Cesano del resto del Carlino, sottopasso faraonico, chi paga? Attraverso Marotta, questo è il nome della lista, analizza i costi di questo progetto e scoprono cifre esorbitanti. Il tunnel, solo per le piastrelle, si spendono 90 mila euro, neanche fossero d'oro. E anche i 5 Stelle, andiamo a Calcinelli, e i 5 Stelle appoggiano la raccolta di firme sull'ospedale. Andiamo sulla pagina, torniamo sul Corriere Adriatico, la Regione garantisce utili per 106 milioni, ecco la finanza di progetto per l'ospedale di Fosso Signore, Maxi Canoni al partner privato per 22 anni. Da Senigallia invece, eccola qua, il film su Saccio, Saccio e Francesco Saccinto, così veniva chiamato dagli amici, il ragazzino che è morto qualche anno fa in un incidente stradale con il suo scooter, ebbene con i soldi del risarcimento la famiglia del ragazzino ucciso finanzierà un documentario e donerà un etilometro al comune di Corinaldo. I genitori di Francesco plaudono la condanna del tipo che era ubriaco e ha ucciso il figlio, finalmente la giustizia è stata fatta, la condanna di Turchi caratterizzata da continue violazioni delle regole, così ha detto l'avvocato Canafoglia. Più in alto invece, sotto la testata di Senigallia, vedete, prostitute adescono i clienti sul lungomare ed è protesta. Dopo l'istituzione, il divieto di sosta è fermata per i clienti, nemmeno le maximulte sono servite a scoraggiare le prostitute che spuntano gli angoli della riviera dal tramonto all'alba per adescare i passanti che poi diventano e che sono potenziali clienti. Travolta sulle strisce pedonali invece paura per l'assessore Bucari, era ferma sul ciglio di Viale Leopardi in sella alla sua bicicletta, portata in ospedale, si è slogata un piede, ecco, ma soltanto per fortuna tanta paura, niente di più. Siamo in chiusura, vediamo solo la pagina principale del messaggero, referendum è bagarre, trivelle, ricci, si sfila, dice è svuotato, ceriscioli dalla Cina, vero ma voterò, piattaforma a largo di fano e scarichi, il sindaco Seri scrive al ministro. Poi a Verona c'è Vinitali, il mito Passerina, cantina di Camerata Picena, l'Ude, la gogliardia nemica dell'eccellenza. Poi sotto, fidatevi, sarà tutta un'altra pista, l'assessore pesarese Enzo Belloni in visita al cantiere della pista ciclabile di Baia Flaminia, che ha sollevato, come ricorderete, una serie di contestazioni, soprattutto da parte degli ambientalisti e anche da parte di alcuni partiti politici. Poi i mosaici del Duomo, c'è l'impegno del Comune, unanimità per la proposta del centrodestra, tavolo di confronto con sovrintendenza e arcigliocesi. È tutto, la rassegna stampa Occhio Giornali finisce qui, grazie per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.